Sui social spunta una foto della ex concorrente del GF Monia Laferrera e del fidanzato Josh Rossetti, fratello di Greta, che fa discutere, i dettagli. Dopo la fine del GF e delle polemiche, la relazione tra Monia Laferrera e Josh Rossetti prosegue a gonfie vele, tra gite in barca e scatti hot. Non tutti però apprezzano gli aggiornamenti della coppia. Ecco le critiche dei fan e la risposta epica di Monia. Monia e Josh dopo il GF stanno ancora insieme. Gli ultimi aggiornamenti Tra le storie d'amore nate durante Il Grande Fratello 2024, ce n'è anche una che fa molto parlare e solleva spesso molte critiche. Si tratta della love story nata tra Monia Laferrera, ex concorrente del GF, e Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti, altra concorrente del reality. I due si sono conosciuti ed innamorati appena la hostess ha lasciato la casa del GF, ma tra loro era arrivata prestissimo una dura crisi che aveva portato ad una rottura. Josh aveva infatti attaccato e minacciato sia fisicamente che verbalmente sia Massimiliano Varrese che il giornalista Gabriele Parpiglia. In seguito alle critiche, Monia aveva annunciato di aver lasciato Josh, per poi ritrattare qualche giorno dopo. Da allora i due non si sono più separati e spesso aggiornano i followers con le loro uscite insieme, come di recente per una gita in barca con una piccola disavventura. Allora ragazzi, vi racconto questa. Io e Josh avevamo deciso di fare una gita in barca. Tutto super bello, super romantico, ma c'è stato un piccolo problema. A lui gli si è scaricato il cellulare e la gita in barca l'ho dovuta pagare io. La foto hot che scatena il web, le critiche e la reazione della ex GFina. Nelle scorse ore Monia ha postato un nuovo post che riguarda proprio lei e Josh e la loro love story. Nella foto appare Josh di spalle a schiena scoperta, che abbraccia Monia anche lei senza veli che scatta il selfie di loro due allo specchio. La didascalia a corredo della foto recita, esplicito, che indica il titolo di una canzone, aggiungendo poi l'immagine di una bomba. Il post, nel quale ad honor del vero non si vede nulla di sconveniente, ha suscitato una forte reazione da parte di molti utenti che hanno attaccato la ex GFina. Alcuni dei commenti sotto al post sono stati, secondo me hai tutto il diritto di farti una vita, ma hai due creature e ti comporti da adolescente, e ancora, anche io sono felice e innamorata ma ste foto non le faccio. La reazione di Monia non è tardata ad arrivare ed ha messo a tacere le polemiche, quindi solo perché ho due bambine non ho più il diritto di postare foto e di mostrarmi innamorata e felice. Voi cosa ne pensate, siete d'accordo con Monia o pensate anche voi che lei e Josh dovrebbero mostrarsi di meno?